Nuovo crollo alla ex toscana Tabacchia d'Ambra, frazione della comune di Bucine. Lo stabilimento produttivo, come sappiamo, ha il tetto in amianto, abbandonato da anni, in Asta, e da più di un anno il tetto sta letteralmente perdendo un pezzo dopo l'altro. Lo scorso 20 marzo il crollo dell'ultima traversina della copertura, l'ultimo di una serie iniziata oltre un anno e mezzo fa. E adesso c'è anche un esposto dei residenti all'ARPAT, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Il crollo della traversina, si legge nell'esposto, è avvenuto martedì 20 marzo, intorno alle ore 22 della sera. In precedenza, dice l'esposto, era avvenuto un crollo analogo il 26 dicembre del 2017. Il 15 agosto dell'anno prima, cioè nel 2016, è avvenuta giù la prima traversina, in seguito ad un evento atmosferico eccezionale che aveva danneggiato molte lastre in Ethernet, scaraventandole in parte sopra la copertura ed in parte nel perimetro esterno. Ad aprile 2017, dopo otto mesi da quel primo crollo, sono stati raccolti pezzi rotti sia nel perimetro esterno, sia in quello interno. Ad oggi, scrivono ancora i residenti, sono passati un anno e sette mesi dalla primo crollo, se ne sono aggiunti altri due che hanno prodotto una montagna di detriti visibili anche dalla strada provinciale di Via Trieste, attraverso una delle saracinesche parzialmente aperta che si aggiungono ai detriti presenti ancora sopra la copertura. La situazione è ormai insostenibile, dice l'esposto, non si può abitare, lavorare, andare a scuola avendo nelle vicinanze questa fonte di veleno. Sappiamo che le fibre di amianto sono cancerogene, qui siamo di fronte ad un disastro ambientale, dice l'esposto, che nel silenzio causa un danno alla salute, soprattutto per chi è esposto per più tempo, come i bambini. Arpat all'esposto chiede che vengano prese tutte le iniziative necessarie per tutelare la pubblica salute, che si misuri subito la quantità di fibre di amianto dispersa nell'aria, che si prevengano futuri crolli puntellando le traversine, che vengano raccolti infine i pezzi rotti sparsi sopra la copertura e dall'interno dello stabilimento, che vengano anche raccolti tutti i rifiuti pericolosi presenti all'interno della struttura, come descritto dopo il sequestro avvenuto nel 2013 da parte della Guardia Forestale. Dell'esposto è stato infine informato anche la Comune di Bucine.